ciao nel mio ultimo incontro alla blender conference di quest'anno ha generato un po di interesse questo shader che ho sviluppato e che è in tempo reale per creare un effetto tratteggiato allora visto che più di qualcuno mi ha chiesto di metterlo a disposizione oltre allora lo trovate prima di tutto sul gruppo facebook che si chiama blender procedural textures però voglio spiegarvi un attimo come fatto così magari comprendendo meglio come funziona ognuno può poi personalizzarselo a suo modo ora lo shader è questo prima di tutto spiego cosa a me interessa allora a me interessa prima di tutto che ci siano le luci e le ombre che io posiziono sulla scena vale a dire che desidero che lo shader sia in grado di reagire alle luci di scena e di offrirmi quindi delle luci e delle ombre nel tratteggio che corrispondano all'illuminazione della mia scena perché molte volte invece molti effetti tune o comunque di tratteggio e cartunistici non non sono legati alle luci della scena invece per me questo è importante l'altra cosa che che mi interessa è appunto che sia prima di tutto real time ok ma anche che sia indipendente dall'angolazione del dell'oggetto cioè che di che il tratteggio dipenda dalla posizione della telecamera quindi adesso vado un attimo a ingrandirlo a ingrandire i tratti così li li vediamo meglio a schermo vedete questi tratteggi queste linee quello che mi interessa è che le linee rimangano le stesse anche quando l'oggetto è molto piccolo quindi che non seguano la dimensione dell'oggetto ma che rimangano fissati alla camera diciamo in modo tale che siano più coerenti con l'eventuale stile disegnato che mi ritrovo sulla pagina cominciamo a spezzare il funzionamento di questo shader allora prima di tutto è fatto da una copia doppia dello stesso shader in modalità moltiplica la modalità moltiplica non fa altro che sovrapporre nero su nero guardate se io rimuovo questo slot rimane esclusivamente il primo tratteggio e vedete il primo tratteggio contiene solo alcune un layer diciamo di righe mentre invece l'altro rimuovo il primo attacco il secondo contiene sempre delle righe ma diverse quindi nel momento in cui li moltiplico e li sommo vanno uno sull'altro a sommarsi quindi per esempio se rendo più piccolo il secondo shader si può andare a vedere che ci sono delle righe tratteggiate molto più sottili diverse da queste adesso lo riporto alla stessa grandezza adesso i tratteggi sono della stessa grandezza quindi questi due sono lo stesso shader sovrapposto in due modi perché perché in uno dei modi in pratica quello che cambia è semplicemente questo valore di gamma se io lo abbasso questo in pratica se lo portassi a zero rimane solo il primo shader nel momento in cui alzo questo comincia ad essere uguale a parità di valori uno qui e uno qui hanno lo stesso la stessa quantità di luci e di ombre quindi in pratica questo metodo mi serve semplicemente per creare due livelli di luci e ombre che poi posso andare a sommare quindi vedete qua c'è molto più bianco nella prima versione invece c'è molto le aree bianche sono più piccole sommando ottengo dei doppi tratteggi quindi risolto questo andiamo a vedere un attimo come funziona uno solo di questi lo seleziono e dentro e vediamo com'è fatto allora il trucco principale e il motivo per il quale tra l'altro è legato a iv è l'uscita con questo nodo shader to rgb quindi in pratica questo se noi andiamo a collegarlo momentaneamente direttamente all'uscita shader to rgb non fa altro che trasformare quello che è un normale shader in un colore e quindi posso uscire con un colore e posso eventualmente come ho fatto qui andare ad applicare una color ramp che in in questo caso è lineare ma potrei tranquillamente scegliere constant e avere quindi la possibilità di scegliere il punto di nero è uguale io avevo scelto una modalità linear con due con i due colori molto ravvicinati constant è la stessa cosa spostando questo punto bianco non faccio altro che decidere dove c'è il nero zoom un po indietro qui dove comincia il nero e dove comincia il bianco perché senza questo nodo guardate lo isolo un attimo senza questo il mio shader è fatto da delle righe ma anche del grigio e quindi questo color ramp non fa altro che creare una soglia e tenere solo la parte nera di questo shader ora questa è la moltiplicazione tra due cose tra un normale shader qui e quest'altro che è il bordo nero attorno agli oggetti vedete che ogni teschio ha un bordino nero attorno che fa da contorno quindi quello che mi interessa adesso torniamo qui torniamo a entrare e farvi vedere che se io lascio solo questa linea nera nell'uscita vediamo ecco questa è la linea nera la linea nera è ottenuta in un modo piuttosto semplice quindi è ottenuta semplicemente con un layer weight facing e poi andando a inserire un nodo matematico less than tra questo layer weight e un valore che fornisco in ingresso quindi guardate se io il valore in ingresso qui allora il valore in ingresso adesso se esco è questo qui black rim se io lo modifico e lo abbasso vedete non faccio altro che aumentare la quantità di bordo diciamo che il valore di 0,750 mi permette di avere un minimo di bordino se lo mettessi a 0,5 avrei un area nera molto più ampia questo metodo funziona bene con geometrie come queste morbide non funziona per niente bene con delle zone piatte perché vi trovereste delle parti completamente nere comunque mettendo questo a un valore più alto ottengo semplicemente di ridurre la linea quindi capito che questo è quello che si occupa di fare la linea non viene altro che moltiplicato per tutto il resto e quindi adesso andiamo a ignorare per un attimo la riga nera e andiamo a vedere come funziona semplicemente tutto il resto quindi adesso ho disattivato la riga nera e vediamo come funziona il resto dello shader abbasso il punto di nero in maniera che si vedano di più i tratteggi ora quindi questa parte qui l'abbiamo vista black outline non ci serve la metto da parte andiamo a vedere che shader è c'è un normale materiale principled bsdf che ha un valore di specular di roughness e di alpha che derivano semplicemente dai valori impostati fuori specular roughness e l'alpha non fa altro che creare una trasparenza e quindi un certo livello di nero guardate se io lo specular lo alzo semplicemente ottengo come al solito un materiale più lucido se lo porto giù in pratica le zone in luce le zone illuminate diventano più o meno chiare roughness adesso è molto alto se io lo abbasso ottengo un effetto lucido come se i teschi fossero di plastica quindi a me interessa che questi due valori possano essere comunque personalizzabili perché ovviamente a seconda di che materiale voglio simulare mi interessa poter far vedere quanto è brillante e quanto è rubido quindi questi due valori vengono semplicemente tradotti così nel materiale invece l'alpha non fa altro in pratica che crearmi una quantità di nero più il livello è basso più la campitura nera è ampia più il livello è alto meno campiture nere avrò mettiamolo di nuovo in una posizione qui anche piuttosto alta e torniamo dentro a vedere le altre cose quindi abbiamo visto di questo materiale cosa significano specular roughness e alfa ora andiamo a vedere la parte fondamentale che è base color infatti guardate se io qua rimuovo base color e lascio un bianco non ho altro che un materiale bianco addirittura se andassi a scegliere il rosso in questo momento diventa nero semplicemente per via di questa color rain se qui invece di constant la faccio diventare linear vedete che non è nient'altro che un normale materiale quindi ripristino constant e lo metto così in maniera che faccia un taglio tra bianco e nero e in base color quindi si trovano tutti i tratteggi le riattacco così vediamo come sono fatti come sono fatti questi tratteggi? e allora c'è prima di tutto una moltiplicazione tra i tratteggi veri e propri e un po' di ambient occlusion guardate se io collego l'ambient occlusion e basta capiamo che ecco qui questo è l'ambient occlusion serve semplicemente a scurire e a far diventare più nere le zone dove la luce fa fatica ad entrare quindi se io andassi a regolare questo valore anche qui non faccio altro che aggiungere maggior occlusione ambientale insomma ho messo un basso numero di samples perché mi interessa che le prestazioni siano decenti ma soprattutto anche se si vede male potrei abbassarli ancora anche se c'è del rumore non mi dà nessun fastidio perché tanto poi nel momento in cui tutto quanto viene moltiplicato è convertito con i tratteggi e tutto anzi può essere perfino carino vedere un po' di rumore comunque qua in pratica non c'è nient'altro che dell'ambient occlusion che quindi serve a dare un po' di ombre nei posti dove la luce non entra e quindi qua c'è una moltiplicazione tra l'ambient occlusion e i tratteggi veri e propri vediamo se io collego i tratteggi veri e propri senza l'ambient occluso li vediamo all'opera eccoli qua questi sono i veri ed effettivi tratteggi quindi in pratica non sono nient'altro i tratteggi che il colore di un materiale nel quale posso comunque lo scollego un attimo regolare la mia quantità di specular regolare la mia quantità di roughness e vedete i tratteggi rappresentano semplicemente la quantità di il valore di colore ora lasciamolo così senza l'ambient occlusion per capire un po' meglio questi tratteggi e come sono fatti? allora sono fatti con una wave texture wave texture che viene passata attraverso un nodo gamma che arriva da fuori dalle impostazioni inserite fuori semplicemente se lo scollego e metto a mano e cambio questo valore vedete questo gamma non fa altro che rendermi più chiaro o più scuro il tratteggio quindi un valore molto basso 0,5 significa righe sottili un valore più alto significa righe più grosse mettiamolo in una via di mezzo vediamo un po' ecco adesso quindi abbiamo capito che questo gamma serve a rendere più o meno grosse le righe e le righe arrivano da questa wave texture che è il nodo principale wave texture serve a creare queste linee infatti se al posto di bands scelgo rings per esempio cambia nel senso che adesso qua non si nota tantissimo ma sono creati degli anelli invece che delle strisce comunque bands sign qual è il trucco qui? allora c'è prima di tutto un valore di scala e di distorsione che arrivano direttamente da fuori quindi sono i valori che cambiavo a mano scala e distorsione la scala è quanto sono sottili le righe quindi 50 20 vedete che diventano sempre più grosse 10 quindi questa è la spaziatura tra le righe distortion invece le rende più o meno sporche applica una distorsione su ogni riga e quindi aumentando questo valore non faccio altro che sporcare tutte le righe quindi ora se rimettiamo la scala a un valore leggibile ma non eccessivo distorsione si non 20 mettiamola ecco a 2 abbiamo delle righe ondulate il trucco sta in questo nodo vector perché se io lo stacco queste righe seguono l'oggetto e quindi vedete sono posizionate secondo la direzione dell'oggetto e vedete che non seguono più la telecamera né niente sono un normale materiale procedurale questo vector è quello che gli dà tutte queste posizioni che appunto dipendono dalla camera quindi in pratica viene fatto un mapping che è un po' complicato qui da capire ma fondamentalmente il trucco è partire da camera data view vector il vettore di vista quindi essendo il vettore di vista questo significa che queste zone rimangono sempre uguali a seconda di dove si trova la camera e non di come sono fatti gli oggetti quindi questo view vector viene dato in pasto a un nodo mapping e viene mischiato con questo voronoi il voronoi se andiamo a vederlo da solo andiamo a collegarlo un attimo se io andassi prendo questo group output se io collego direttamente il voronoi da qui a laggiù lo vediamo vedete sono queste zone il voronoi è solo un rumore colorato che è questo quindi questo qui adesso ripristiniamo come era prima queste patch colorate vengono moltiplicate per un certo valore che a seconda di quanto è se io lo metto a zero in pratica sono inutilizzate e tutte le righe seguono la medesima direzione più questo valore aumenta più il posizionamento del voronoi va a cambiare la direzione delle righe e quindi questo valore dato come valore di rotazione al vettore della telecamera non fa nient'altro in pratica che ruotare questa texture wave in modo diverso all'interno di ciascuno di questi patch quindi voronoi genera i rettangolini e infatti vedete che ha un input cell scale che arriva direttamente da fuori e che se io lo ingrandisco le celle diventano più grandi se a valori invece maggiori corrispondono cellette più piccole queste cellette in pratica grazie a questo valore di moltiplicazione che se fosse bassissimo sarebbe quasi niente di rotazione quindi invece se lo rialzo questo qua va nel diventa un fattore z di rotazione quindi cambia la rotazione rispetto all'asse z che proviene dalla telecamera e quindi non fa altro che ruotare tutti questi segni che poi tra l'altro sempre appunto questa wave texture è scalata in maniera irregolare tra x e y quindi vedete se io rimetto a 1 e 1 sono perfettamente uniformi le righe e quindi adesso posso riscalarle un attimo di nuovo diventano uguali avendo messo invece a 0,3 qui anzi mettiamo 3 adesso in pratica semplicemente alcune righe saranno più strette guardate se esagero questo valore si vede molto più chiaramente andiamo ad esagerarlo proprio che le righe più orizzontali sono grosse e le righe più verticali invece sono sottili quindi questo non fa altro che darmi un po' di variabilità lo rimetto a 0,3 un po' di variabilità nello spessore delle righe in modo che non abbiano tutte esattamente lo stesso spessore quindi adesso questo è il nodo spiegato vado a ripristinare un attimo il file com'era in modo tale da poterlo riavere com'era all'inizio e quindi ve lo mostro di nuovo dalla telecamera qui adesso con lo zoom non cambia perché sono all'interno della telecamera e quindi posso zoomare e vedere i tratteggi quindi in pratica qua da fuori adesso che abbiamo capito come funziona etching scale è semplicemente lo spessore delle righe l'abbiamo visto la wave texture quindi a un valore basso corrisponde una corrispondono delle righe più grosse e più distanti tra loro a un valore alto corrisponde un tratteggio più fine etching distortion sono quanto devono ondeggiarsi queste curve se lo metto a zero i tratteggi sono perfettamente diritti patch scale è la dimensione delle patch quindi di questi chiamiamoli rettangoli in realtà sono dei quadrilateri della texture voronoi quindi se lo metto a uno ottengo stacco un attimo il secondo ottengo delle patch molto grandi se lo metto a 50 ottengo delle patch molto piccole quindi con questo posso regolare la dimensione di questi rettangoli adesso rimetto a due questo black rim abbiamo visto che regola l'alfa del materiale e quindi non fa altro che aumentare la quantità di nero gamma allo stesso modo invece in pratica decide quanta luce c'è e quindi è quello che mi serve per andare a distinguere le due varianti quella che creerà dei tratteggi sovrapposti quindi con dei valori di gamma diversi abbiamo detto se questo lo metto appunto a 0,2 e se questo lo mettessi a 0,1 no ho sbagliato valore non black rim scusate questo lo lascio lì gamma 0,1 ecco qui che ho molto più bianco e molto meno tratteggio e poi appunto invece per quanto riguarda specular roughness sono proprio gli specular roughness del materiale per cui con un valore molto basso di roughness e un valore molto alto di specular i teschi diventano come dei palloncini diciamo molto più brillanti e black level come abbiamo visto è la quantità di nero che c'è nell'immagine e quindi ecco che regolando questi valori ottengo degli effetti molto diversi spero di essere stato chiaro e di avervi un po' spiegato come funziona così magari adesso potete essere in grado di ricrearlo per conto vostro e magari per esempio al posto di onde potete tranquillamente creare dei puntini o delle altre variazioni insomma grazie e alla prossima grazie